La legislatura perché via si augura e fulberie non sono ammessi, appunto con un breve tempo rimette nelle mani dei cittadini, se sapete bene, se sapete bene, se sapete bene, se sapete il governo, staremo fuori, staremo in posizione di vigili, e spero in elezioni, in tempo di tempo. L'ho fatto per senso di responsabilità, per senso dello Stato, l'ho fatto per evitare all'Italia un nuovo attacco dalla speculazione, di operare nessun ribaltamento del risultato delle elezioni del 2008, del suo programma, con l'Italia, con il nostro impegno, per un governo che sia, gli italiani oggi sono arresto da una situazione che presenta aspetti di a 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